allora sono qui con keysoft e sono con questo albero qua ok questo albero qua che è una deflessione in flessione di 49,77 micron 154,6 64 newton al millimetro quadro la massima equivalente stress sollecitazione e poi le reazioni vincolari sul supporto qui per avere altri dati devo poi andare a fare cliccare sulle croc section quello che se io vado qui language italian sulle sezioni croc section sezioni ok però io posso anche senza fare questo già vedere con i grafici e dunque vado qua in grafica ok dunque vado su albero e qui posso vedere la deformazione vediamo se faccio di andare gli esegui e dunque sono qua ok e dunque nella deformazione nella linea elastica richiama deformazione nella linea di come si piega l'albero il punto massimo ce l'abbiamo qua più o meno qui quello che risulta 49,77 vediamo se riusciamo a ingrandirlo ce l'abbiamo più o meno qua ok 0.05 millimetri che è 0.049 in realtà che lo trovo qui ok dunque lo trovo da qui dove la posizione qui non me lo dice ve lo dice qui la invece la tensione equivalente massima la tensione equivalente massima la trovo da qui 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 G e K von Mises e SSK 3K l'altra cosa nelle tensioni nominali senza considerare considerare la concentrazione di tensione dunque gli effetti in taglio non ho considerato non considera la linguetta e così via e dunque questo 154 ce l'abbiamo in questa posizione qua di fatti 4 159 ma è questa posizione qua poi naturalmente come al solito io posso andare a vedere il von Mises e il von Mises e il Treska dunque se io vado a cancellare qua questo qua è il von Mises e ce l'ho qui che è tra il cuscinetto molto vicino al cuscinetto sulla battuta qui qui il problema più grosso ok va bene sulla tensione equivalente che è questo secondo dato in modo che col grafico vado a vedere dov'è ok dov'è l'infressione abbiamo visto dov'è l'infressione massima qui ci dà il dato e col grafico andiamo a vedere dove è ci siamo ok era semplicemente per far vedere questo video questi due dati mentre naturalmente le forze di viazione del cuscinetto quello lo sappiamo ce l'abbiamo qui e ce l'abbiamo qua anche se andamento della forza della resistenza non ce l'abbiamo qui non ce l'abbiamo però vabbè capiamo già benissimo che sono in questa posizione qua dove ho i due cuscinetti vabbè spero di essere stato utile ci vediamo alla prossima arrivederci grazie